Bella vecchi dravani, sono Darryl, siamo tornati con un nuovo video qui su FIFA Oggi non c'è Xenic perchè è malato, ma c'è con noi E probabilmente ci saranno problemi di sincronizzazione perchè c'è il delay su Skype che è un casino Comunque Shalla, oggi vi portiamo un challenge su FIFA Che probabilmente già avete visto su altri canali tipo Sodin o Joker Ovvero quella del Discard Pack Challenge La vuoi spiegare tu o la spiego io? La spiego io, allora praticamente apriremo dei pacchetti insieme, ci diamo il via e apriamo il pacchetto E poi diciamo magari apriamo prima un pacchetto, cioè il primo pacchetto che apriamo poi lo scatteremo tutti e due E chi trova il giocatore più alto inizia di overhaul E poi ovviamente chi inizia per l'appunto cosa farà? Prenderà un giocatore, metti che io trovo Messi nel mio pacchetto, lui trova Kamboluganga Ok? E nel mio Messi c'ha 93 di velocità E allora qui 93 di velocità praticamente io dico Il mio giocatore ha 93 di velocità se inizio io E quindi se il suo Kamboluganga non ha almeno 93 di velocità Lui sarà costretto a scartare il suo pacchetto Però se dovesse iniziare lui con Kamboluganga, mi fa guarda che il mio Kamboluganga, che c'ha una sleppa così, c'ha 99 di fisico E il mio Messi non ce l'ha, quindi io col Messi dovrei scartare il mio pacchetto Te l'ha vinto il culo insomma Esatto Allora cominciamo subito col primo pacchetto Io c'ho David Alaba, pronto? Ok io c'ho i guai... Da 7 e mezzo ovviamente Da 7 e mezzo Ok Allora apriamo tra 3 Via 2, 1, via 1, via Oh attenzione Mi dice aspetta al momento ci sono dei problemi con il negozio Da paura Vabbè io ho scartato Vabbè io ho trovato i Rai Zodz con 78 Ah buono io c'ho i Borra 79 Da paura Comunque vi annuncio che c'è anche un pacchetto C'è un pacchetto gratis dentro Eh ma devi scartare tutto Allora No devi scartare tutto No perché aspetta Perché tu hai scartato tutto? No devi scartare tutto Queste sono le regole Il primo pacchetto andava scartato tutto Volevo se trovavi Ronaldo Record Breaker Eh quindi passo io il primo a sceglie Quindi adesso tu esatto Scegli per primo te Mongo Spastico Ho scartato tutto Ho scartato un pacchetto gratis Grazie Esatto Prego Inizia la vera sfida Attenzione Via Attenzione Io c'ho Lionel Messi che mi aiuta Si spera Bam Ok Allora Io prendo Aspetta eh Eh Prendo Questo qua Allora C'ho Un Difesa 85 C'hai uno che supera 85 difesa Ah Sì Sì No Non era molto convinto Quei sì No no Non ce l'ho Il primo arrivano massimo A 32 Dai Scarta tutto Ma C'avevi qualcuno De forte Assolutamente no Apriamo il secondo pacchetto E questo Questo lo scelgo io Scelgo io la statistica Credibile Dimmi quando Vediamo Vediamo È io Gioperto Vabbè C'ha Davide Alaba Speriamo Io ho paura Trova quelli Forti Che mi tocca Scartarli Vai tranquillo Vai Scegli statistica Vai La statistica Che scelgo È il dribbling Quanto Hai qualcuno Con più di 78 Di dribbling Certo 80 Hai Robic Mamma mia C'è Calcola Era tipo la statistica Più alta che avevo Il dribbling Beh Io era 78 Con la più alta che avevo Ora sarà un portiere Apriamo il terzo pacchetto Questo lo scegli te Ma tu con i pacchetti Quelli là Che non fai Puoi anche Cioè Li devi scartare uguali Oppure No mi tengo Ok Io sto prendendo già Ed è Nasar Io per ora Io per ora ho scartato tutto Sì 2 a 0 che me Ho sfigato io Ok Che merda Allora aspetta Mamma mia Cosa divertiva Allora scelgo Fisico 82 Che cazzo 78 Ma mia te sto Pappo per culo Ignascevic C'ho Direzione centrale Il CSK Mosca Ho 46 di velocità Devi morire Griezmann intanto Apriamo un altro pacchetto Qua con sta Daryl The Nuts Io per caso C'ho fortunatamente Poi trovati con Ronaldo Paura No vabbè Perché poi Se lo devo scartare Allora Mi dispiace C'è la sveda Allora io c'ho Dribbling E maluta Dribbling 80 Cazzo 77 Palle Giorginio Vai apriamo Con David Alaba Lì non è messi Si vola Il ritmo della noce Schifo Attenzione Ho trovato Un grandissimo Allora Vai Difesa 81 Porca puttana Quanto? 45 Mamma mia Tutti attaccanti Calcola Se dicevi velocità Te buttavo Eh ma velocità Stavo una merda Tutti i difensori Calcola 96 Si va avanti Si va avanti Litzman Io il Pipita Ti schifo Ok Vabbè Questo Oddio Non lo so Tocca a te Vero? Si Velocità 86 Cazzo 83 Coleman No No Davide Ti fa Uno zoom Assurdo Penso sia la faccia Più simpatica Che abbia mai visto Su film Chi è? Tartà Devi vedere Tartà Stagione Bellissimo Gioca Nero Gioca All'Ulsan Hyundai È in Corea Sta Gioca Grandi campionati È un brasiliano In Corea Cioè Che cazzo Il Pipita Hikwain Vai Eden Hazard Attenzione No Questo Non muovo e batte No Fisico 85 Non muovo e batte 86 No dai Che dirà Era buonì Che dirà Fisico 86 Signori Che coglioni Grande Vai Vai Sto Scartando te stesso Ah E io comunque Ho scartato Guarda Vabbè Ti sto a scartare Comunque Howard 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 Sì Vediamo un po' Però posso dire una cosa Cioè In tutto questo Noi Non abbiamo trovato Nessuno dei forti Cioè No Ancora no Dimmi velocità Eh scusa Cosa ho detto Non ho detto niente io Passaggio Quanto è le passaggio Passaggio Massimo 66 Tipo 80 Con Mauri Guarda io ho Bangura Con 91 Di velocità Però mi è scappato Non lo devo dire Eh calcola No manco Non l'avrei detto Calcola no Sul serio La mia velocità massima È 75 Ok Io ho scartato già Eh io sto scartando Prisman Cioè Ma uno forte Lo troveremo Mai Allora sta a me no Si Porca Mamma mia che schifo Passaggio 79 79 Oh lo batte Con un arango 80 di passaggio Dai ma io sai Indovina che ho trovato Indovina come si chiama questo Pareto Pardo Ah Non ci stavo Guarda ti va detto Pardo Ho detto no Non ci può Pardo C'è la parla di vetro Pardo Ho beccato Pardo Proprio lui Incredibile E' un giocatore Che ho trovato No no Fermo Fermo Questo qua No Ho trovato uno abbastanza forte Cioè Non è fortissimo Però è forte Vai io Attacco Eh si attacco Tiro Dai Non ti batto per forza Dai Quanto c'hai 86 86 86 pure io No No non è vero 83 il mio Detto una fronzata Che giocatore era Tevez Mi hai fatto più a corpo Ho detto No scartiamo tutti e due Ha dato il tipo difesa Eh se dicevi difesa Hai vinto te 46 Signori E' finito il video Felice qui Io continuo E la cosa brutta Ti devi sbrigare A far l'altro Perché io continuo A spacchettare Ok la cosa La cosa brutta E' che Non abbiamo trovato Nessuno Ho trovato Balotelli E' forte Balotelli E' forte Nella vita reale Si infatti Comunque Non abbiamo trovato Nessuno Nessuno Dei due Nessuno Nessuno Se questo video vi è piaciuto E volete magari Vedere una replica Con qualcun altro Sempre con Ghostfrax No O sempre con Frax Lasciate Quanti like Ma io direi Di arrivare a 8000 like 8000 like Ci stanno Oh Oddio Ho trovato Noyer Ma davvero Si Ho trovato Noyer Ho trovato Noyer A caso E quando Meno te la spezzi Si trova Noyer E non posso Inviare una lista D'esperimenti E' piena Comunque Lasciamo 8000 like Se vi è piaciuto Questo video Noi ci becchiamo Sempre Come sempre A un prossimo video E' bella E' bella Ho trovato Noyer E sono il più forte del mondo Ho vinto io Bella Bella